buongiorno in questa settima lezione del corso di storia della tecnologia esaminiamo un periodo che va dalla metà del sesto secolo alla metà del tredicesimo secolo e andremo ad esplorare diversi scenari mondiali in cui si presentano interessanti spunti di storia della tecnologia ma detto questo direi che posso interrompere la mia immagine ecco risparmiamo memoria come al solito e iniziamo subito andiamo a guardare cosa succede in italia e in europa orientale intorno alla metà del sesto secolo avanti allora dopo l'insegnamento dei gotti si a metà del secolo si sviluppano le guerre gotiche con i bizantini eh che terminano con la vittoria bizantina eh altra evento notevole a costantinopoli è il trafugamento del attivo il laser con cui mi trovo meglio eccolo qui il trafugamento del bacco da seta dalla cina e quindi l'inizio della tessitura in europa di questo tessuto così raffinato così prezioso di cui rimarrà comunque principale produttore la cina ancora per molto tempo poco dopo poco dopo si sviluppa sempre a costantinopoli e poi dilaga in buona parte dell'impero la una grande epidemia di peste la peste di giustiniano cosiddetta che arriva a uccidere 40 per cento della popolazione della città eh dilaga nell'impero come dicevo torna ad ondate quindi vedete tematiche da pandemia a cui ci stiamo abituando anche se fortunatamente i tassi di mortalità oggi non sono assolutamente paragonabili a quelli eh l'impero d'oriente ne risulta prostrato e e a questa eh evoluzione fa seguito verso nella seconda metà del secolo l'invasione dei la discesa dei longobardi in italia il loro insediamento in italia questa mappa fa vedere un po' le traiettorie con cui sono la traiettoria con cui sono arrivati appunto nella penisola e poi non sono gli unici popoli che si insediano quelli che erano prima i territori dell'impero romano eh arrivano anche una cinquantina di anni dopo eh gli avari in Europa orientale quindi è una seconda ondata di invasioni di decadenza che comporta lo spopolamento delle città e dei villaggi un forte calo demografico e eh eh uno sviluppo di un'economia alternativa nota come economia curtense nata intorno alle vecchie ville eh rurali romane che erano centri di produzione agricola e che diventano adesso di fatto dei villaggi autonomi molto autonomi che vivono di una microeconomia autarchica fortemente centrata sull'agricoltura e sui beni essenziali al suo suo esercizio con forte recessione delle altre attività produttive una riduzione drastica dei commerci o quasi un annullamento dei commerci e di conseguenza anche una riduzione netta della circolazione di denaro e notiamo anche eh mancanza di mano d'opera servile esterna anzi eh la popolazione deve rearrangiarsi con con le proprie braccia a lavorare eh queste ma queste attività agricole fondamentalmente eh sono gli anni in cui si sviluppa la servitù della gleba ovvero uomini liberi ma vincolati a rimanere a lavorare gli stessi territori questa è un'immagine magari posteriore ma che documenta le attività di cui vivevano queste popolazioni in questo contesto si diffondono i monasteri eh latini a noi interessano quelli che nell'Europa occidentale quindi quelli latini ovviamente ci sono anche i monasteri ortodossi in eh in Europa orientale ma concentriamoci su questi che diventano appunto nel contesto che ho descritto istituzioni che le uniche istituzioni che sono custodi dei saperi oltre alle curie vescovili che sono anche qui saperi tecnici perché bisogna eh darsi da fare con tutto ciò che che serve al funzionamento dei monasteri quindi si leggono sì le le sacre scritture non può che essere così ma ci sono anche eh l'attenzione verso le conoscenze meccaniche quindi la metallurgia si fondono campane le conoscenze chimiche con la cura della farmacopea quindi le erbe a fini farmaceutici e così via e diventano di fatto il riferimento culturale e oltre che religioso delle società cortensi. Quest'ambito avviene riscatto del lavoro manuale per le ragioni che ho detto è artigianale eh è necessario dedicarsi a queste cose per il sostentamento eh quotidiano e eh gli stessi monasteri anche se inizialmente in un'ottica penitenziale elaborano il concetto dell'ora et labora che conosciamo bene con cui eh nei monasteri si alternano le ore di eh preghiera a quelle di lavoro manuale e in questo modo ripeto seppure inizialmente in un'ottica penitenziale eh vengono eh rivalutate eh le attività manuali. Al tempo stesso però ovviamente si cerca di eh evitare il eh l'esecuzione di operazioni banali e fortemente ripetitive. Tutto questo può avvenire tramite operazioni in qualche tipo eh di meccanizzazione che vedremo presto. Allora è un contesto nel quale eh l'attenzione verso il lavoro manuale produttivo viene rivalutata nettamente in un'ottica in un contesto cristiano ed è un atteggiamento nuovo che è appunto diffuso e rivoluzionario che è diffuso lo ripeto in in questi secoli all'interno della cristianità con un forte stimolo all'innovazione. Una forma di meccanizzazione importantissima che comincia ad affermarsi in questo periodo è costituita dalle ruote idrauliche. Ruote idrauliche che azionano le macine e quindi di fatto mulini eh idraulici. Eh si realizzano in varie forme. Una notevole è quella dei mulini a marea che sfruttano il flusso delle maree per azionare la ruota. Eh ne vedete qui delle rappresentazioni che non sono datate eh corrispondentemente alle date che vedete in testa alla slide. Le date eh indicate nella slide sono quelle in cui sono state ritrovate eh testimonianze nelle cronache dell'epoca della presenza di questi mulini mentre le fotografie si riferiscono a realizzazioni posteriori seppure dello stesso tipo. Qua in particolare vedete un mulino eh posto su questa diga che quindi può essere azionato dai flussi di marea che si alza e si abbassa e in corrispondenza del della conseguente flusso d'acqua eh verso questo bacino interno oppure eh in uscita dal bacino interno. Mulini di questo tipo ha senso costruirli ovviamente dove ci sono eh forti escursioni del livello dell'acqua prodotti dalle maree, alte maree e in particolare questo succede sulle coste atlantiche europee quindi Inghilterra, Francia, anche Portogallo, Irlanda come vedete. Altrove altrove si diffondono le classiche ruote idrauliche nella configurazione di di Vitruvio o derivata da queste poste lungo i corsi d'acqua e si diffondono al punto tale che diventano anche motivo di eh normazione, di 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 eh regolamentazione eh prevista dal cosiddetto diritto di molitura per il quale i signori eh feudali del eh dei territori erano gli unici autorizzati a disporre di un mulino e i contadini o i servi della gleba erano obbligati a portare eh i loro cereali a macinare presso il mulino del signore pagando ovviamente in cambio il di fatto la tassazione a al signore feudale ed era proibito loro la la macina autonoma che era considerata clandestina eh fatta in casa eh è un segno ripeto dell'importanza del della e della diffusione delle ruote che fungevano di fatto da strumento sistematico di praliego fiscale con le ruote chiaramente si impone una concezione nuova eh del sfruttamento energetico che non è più prodotto da eh risorse biologiche per via muscolare ma piuttosto può essere captato da fonti inanimate come è l'acqua passiamo alla Cina adesso vi presento una realizzazione sicuramente notevole da punto di vista dell'ingegneria edile eh un grande ponte ad arco ripassato eh tuttora esistente come potete vedere che ha una soluzione molto più audace del classico ponte a tutto sé con archi a tutto sesto che veniva realizzato eh in epoca classica romana però bisogna dire che anche all'interno dell'impero romano nel tardo impero avevano iniziato ad apparire eh ponti come questo anche sì di minore estensione bisogna dire che ce n'è qualche testimonianza proprio a Padova nella Padova tardo romana quella che vedete sotto è invece la mappa della Cina dove si intravede la traccia della grande muraglia di diversi tratti della grande muraglia e anche questo tracciato qui quel tracciato è il cosiddetto grande canale un grande canale nome sicuramente lecito eh realizzato nel 610 eh che si estende per ben 960 chilometri in modo da collegare lo basso il basso ianzè una regione a forte vocazione agricola con con la regione di Pechino di fatto eh realizzato per il trasporto di cereali in particolare di grano e ehm nell'ottavo secolo siamo ormai sotto la dinastia Zhang eh le cronache riportano che era in grado di trasportare due milioni di tonnellate di grano all'anno quindi un canale realizzato apposta per un trasporto veramente imponente ovviamente nel dire le modalità oh scusate eccolo qui modalità di traino erano queste le chiatte venivano caricate con le granaglie e il traino veniva fatto da animali come cavalli in questo caso che procedevano a lungo gli argeni del canale stesso le cosiddette alzaie e come mai realizzare queste opere così imponenti per un trasporto di fatto eseguito dai cavalli eh che potrebbe essere fatto a Soma eh beh in realtà ci sono dei motivi molto validi e sono indicati in queste scritte che sono apparse adesso eh se eh un cavallo eh viene caricato sulla Soma in grado di trasportare uno o due quintali eh se gli si fa trainare un carro ne trasporta molti più da otto quintali a due tonnellate dipende da come è messo il fondo stradale ma con la tecnica della chiatta fluviale che vediamo rappresentata e le capacità di tiro sono nettamente superiori si arriva a trenta cinquanta tonnellate allora capite che quando sono in gioco il trasporto di quantitativi di grano così elevati eh disporre di un mezzo eh di un così vantaggioso di trasporto giustifica lo scavo del canale una modalità così vantaggiosa giustifica lo scavo del canale eh poco dopo la Cina queste sono già grandi opere evidentemente ma qualche anno dopo nel 618 si insedia una nuova dinastia i tang che promuovono un periodo di eh ulteriore grande sviluppo economico ma che anche politico e culturale eh con eh notevoli progressi in campo chimico che si inquadrano tra l'altro nelle logiche della filosofia tautistica e eh in questo spirito le le ricerche si indirizzano anche dico questo lo vedremo poi più avanti perché nella ricerca dell'elisir che è una sostanza magica che dovrebbe garantire l'immortalità però nella in questo tentativo ovviamente vanno di cercare l'elisir si esplorano sostanze di ogni tipo diverse qualche volta anche eh pericolose mercurio cinabro arsenio arsenico chiedo scusa eh che a un certo punto chiedono richiedono di essere regolamentate e limitate facciamo un salto più a sud ovest andiamo in india dove avvengono pure dei progressi notevoli in questo periodo nel campo delle scienze e matematiche fiorisce eh brahma gupta uno dei grandi della storia della matematica ed è lui che introduce nella numerazione posizionale decimale lo zero che ancora era assente e i numeri che vengono prima dello zero vengono i numeri negativi in altre parole configura la numerazione posizionale decimale moderna come la conosciamo noi in cui come sappiamo ogni posizione vale dieci volte quella precedente lo zero il segnaposto vuoto e grazie ai dieci simboli le cifre da uno a nove più lo zero e siamo in grado di rappresentare qualsiasi numero comunque grande una capacità di rappresentazione che era invece sconosciuta ai matematici ehm greci e romani pensate che in epoca romana il numero più grande che si concepiva che aveva un nome era la miriade miriade vuol dire diecimila quindi quando si trattava di volere descrivere eh centomila di qualcosa o milione di qualcosa bisognava ricorrere ai trucchi come dieci miriadi cento miriadi mille miriadi ma diventava tutto molto complicato con un simbolismo che poi andava andava raffazzonato in qualche modo eh la capacità la potenza descrittiva e di manipolazione dei numeri con la numerazione posizionale ovviamente è enormemente superiore eh Brahma Gupta non si limita a fare questo eh inventa anche l'algebra dei numeri interi come li conosciamo noi quindi positivi negativi eh zero eccetera quindi intendo con questo le operazioni da fare tra di loro la somma di un numero positivo e negativo di due numeri negativi la moltiplicazione eccetera le altre parole concepisce l'algebra l'algebra moderna anche se la parola algebra è ancora prematura la vedremo nel suo significato più completo tra poco in questa stessa lezione è inutile dire che questo eh progresso eh della matematica indiana è una tappa fondamentale nella storia della matematica e di lì a poco lo vedremo sempre in questa lezione ne faranno tesoro gli arabi per cui da noi diventerà nota come numerazione araba o indo araba o arabo indiana la cosa notevole di tutto questo di questo modo di concepire la numerazione è che se andiamo da tutt'altra parte del mondo in America centrale nella civiltà maia lì troviamo una civiltà che appunto fiorisce tra il 250 l'abbiamo già incontrata l'ho già citata no? E il 950 dopo Cristo che è una società fondamentalmente eh neolitica di tipo evoluto eh conosce sofisticate tecniche agrarie rigue in grado di costruire grandi edifici ma a spinta solita eh interesse eh a prevedere il tempo dall'osservazione astronomica è anche una cultura di che presenta notevoli eh risultati in campo astronomico e siccome l'astronomia è collegata eh da sempre l'abbiamo visto nel mondo greco alla matematica sviluppano anche una matematica molto sofisticata addirittura anche loro inventano la notazione posizionale con lo zero solo che è in base 20 invece che in base 10 ventesimale evidentemente se quella in base 10 deriva dal riferimento alle dieci dita della mano evidentemente i maia avevano in mente di avere in ogni loro corpo venti dita anche quelle dei piedi e si riferivano a questo nel identificare la loro numerazione vabbè procediamo e questa l'abbiamo già vista torniamo nel vecchio mondo nel in Medio Oriente e nel 622 nasce una nuova religione di fatto questa è la data eh eh in cui si indica la fondazione del dell'islamismo con eh le gira di Maometto il grande profeta dell'islam che fugge dalla Mecca verso Medina eh proprio in quest'anno eh Maometto eh seguito dai suoi proseliti eh vive fino al 632 per altri dieci anni e dopo alla sua morte eh l'azione eh di proselitismo viene proseguita da suo successore Omar I che è il secondo califo eh ovvero califo vuol dire vicario del profeta a guidare la nazione islamica cioè questa persona è la guida di tutto l'islam quando sentiamo parlare di califato eh in termini politico militari eh di questi tempi chi rivendica questo titolo si considera la guida di tutto l'islam vabbè Omar lo era davvero Omar primo e decide che la il messaggio del profeta deve essere eh divulgato in tutti in tutte le direzioni e quindi si lancia in una campagna militare per portare la parola del profeta in giro per il mondo ed è un'espansione militare che è straordinariamente eh efficace e rapida e porta in pochissimo tempo la creazione di un vastissimo impero islamico vediamo rapidamente alcune delle tappe allora 642 Omar arriva a conquistare l'Egitto che era un Egitto cristianizzato ovviamente apparteneva all'impero romano d'oriente ormai di fede ufficiale cristiana come sappiamo viene conquistato entra sotto la eh il potere dei califi eh islamici eh omaidi bisognerebbe dire ehm la cosa notevole è che eh gli arabi permettono eh gli islamici scusate se è meglio dire permettono tollerano che eh il paese sottomesso il la popolazione mantenga eh si converta ovviamente sono sollecitati a convertirsi ma possono anche mantenere le loro tradizioni i loro costumi le loro religioni basta che paghino tributi adeguati a questo ed è un atteggiamento che eh rispetto a quello che era l'imposizione degli antichi imperi eh delle conseguenti alle dominazioni è sicuramente un molto aperto molto progredito non vi alcun dubbio e altro fatto che avviene in questo contesto storicamente secondo certe cronache è la distruzione della biblioteca eh di ciò che rimaneva della biblioteca di Alessandria da parte di Omar I avrebbe detto eh se quello che c'è scritto in questi libri è scritto anche nel Corano allora sono inutili perché è già scritto se invece dicono cose diverse dicono cose false allora vanno incendiati in realtà non è eh pare che non sia assolutamente vero questa questa è un po' una leggenda eh pare molto più verosimile che è in realtà la eh la grande biblioteca fosse ormai eh scomparsa da tempo eh non c'era più quello splendore eh culturale che era cominciato a decadere già nel terzo secolo dopo Cristo eh fatto sta comunque che eh questa nuova dominazione in Egitto comporta anche l'attrazione dei depositari di quello che rimaneva di questa cultura ellenistico alessandrina verso il nuovo polo di potere che è Damasco dove ovviamente i califi hanno posto la loro capitale e quindi c'è una migrazione culturale e al tempo stesso un assorbimento delle conoscenze ellenistiche all'interno dell'Islam a Damasco appunto eh le ambizioni di Omar non si fermano qui eh molto rapidamente come dicevo eh travolge anche l'impero sasanide verso eh est quindi in Persia e eh nel quadro di questa campagna militari viene ucciso da da un persiano e le cronache ci dicono che era un costruttore di mulini a vento eh quindi questa sarebbe una testimonianza del fatto che i persiani a quell'epoca conoscevano i mulini a vento ma di nuovo sembra più ragionevole pensare che si tratta di una leggenda infatti questa cosa è stata scritta nel decimo secolo quindi circa eh trecento anni dopo di quando si riferisce quando si riferiscono gli eventi sembra più ragionevole che la il mulino a vento eh fosse comparso qualche tempo dopo di sicuro nel nono secolo era in funzione intorno quindi all'ottocento cinquanta circa dopo Cristo funzionava in questo modo sopra è una stampa sotto vedete un'animazione eh le l'asse di rotazione è collegato diremente direttamente alla pietra di macinazione e ovviamente permette di automatizzare l'operazione di eh macina del grano anche in assenza di acqua il vantaggio è quello eh poi vedremo come l'ha ripreso a a suo tempo eh è interessante eh citarlo perché si tratta del primo caso di sfruttamento dell'energia eolica a fini produttivi sappiamo che per l'uso terrestre i cinesi ne avevano già concepito eh avevano già ideato un modo di sfruttare l'energia eolica con i carri a vento i carri a vela beh questa è a fini produttivi la differenza importante è questa poi ci sono anche a fini religiosi le ruote da preghiera che sono un uso un altro uso precedente ma non produttivo evidentemente. Bene eh le l'espansione islamica non termina qui eh nel 673 tentano di conquistare portano l'attacco al cuore del mondo bizantino a Costantinopoli eh ma in questo caso il tentativo fallisce eh Costantinopoli riesce a resistere con la sua tradizione militare ma specialmente eh è dotata il fatto tecnologico che aveva osservato di un'arma segreta innovativa è una sostanza chiamata fuoco greco eh una miscela combustibile che una volta accesa non si spegne più eh probabilmente conosciamo forse anche il nome dell'inventore di questa miscela lo vedete indicato qua callinico di Eliopoli e probabilmente era fatta mescolando nafta, zolfo, salnitro, calceviva, sono state fatte delle ipotesi abbastanza accreditate di questo tipo. La cosa notevole è appunto che non si spegneva una volta accesa e poteva essere lanciata da un'imbarcazione all'altra nello scontro navale per mezzo di sifoni che sono dei di fatto dei veri lanciafiamme se ci pensate gli ehm ehm i predecessori del lanciafiamme moderno. È un'arma che ha un formidabile successo sulla flotta musulmana che viene eh travolta da 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 questa arma appunto e arresta la l'espansione islamica per il momento in Europa orientale. Ma ovviamente eh gli islamici non si fermano qui eh i musulmani non si fermano qui. Nel 711 eh ha successo invece la conquista della Spagna arrivando dal Marocco attraversando lo stretto di Gibilterra. Anzi Gibilterra è proprio un nome di origine araba eh ricorda il conquistatore Gibilterra. Conquistano la Spagna e poi eh poi vediamo un attimo tra un momento che cosa fanno. Nel 717 riprovano di nuovo a portare l'attacco su Costantinopoli. Ma l'esito è lo stesso che nel caso precedente eh ancora grazie al fuoco greco. Nel settecento eh dopo aver conquistato la Spagna dilagano più volte in Francia a nord dei Pirenei eh portando scorrerie eh conquiste temporanee fino a che nel settecentotrentadue vengono affrontati dai cavalieri franchi di Carlo Martello che non è il re dei franchi è il maestro di palazzo è il maestro d'armi di palazzo insomma e il re un altro e che eh che li sconfigge e li sconfigge e questo pone definitivamente fine alle ambizioni di espansione arabe oltre ai Pirenei però rimarranno in Spagna ancora per alcuni secoli e tra un attimo vediamo anche che cosa fanno in Spagna. Una successiva azione di espansione in eh Asia centrale a nord della Persia porta nel settecentocinquantuno gli arabi a questo appunto è una nuova dinastia agli Abbasidi che sono subentrati agli Ommaiaidi eh eh ehm a scontrarsi con i cinesi dicevo i cinesi della dinastia Dang che eh che eh stavano cercando di espandersi verso occidente verso ovest. Lo scontro avviene sul fiume Talas nell'attuale Kirghizistan e si risolve un po' sorprendentemente tenendo conto di qual era la potenza e il livello tecnologico dei cinesi si risolve dicevo a favore degli arabi. Il risultato è che gli arabi non solo si insediano stabilmente in quella regione che è quella di incrocio delle rotte della della via della seta come già abbiamo visto dove si trova per intendersi Samarkand, Bukhara, queste eh città di di grande tradizione commerciale e non solo. Ma oltre ad insediarsi lì riducono anche i schiavitù, i cinesi sconfitti e sottomessi eh e da eh schiavi cinesi, prigionieri schiavi cinesi apprendono alcuni dei segreti della tecnologia cinese. Apprendono la produzione della carta che appunto viene avviata proprio a Samarkand e da lì si diffonde gradualmente verso ovest quindi arriva a Baghdad nel 794 poi arriva anche a Damasco e gradualmente arriva fino eh alle propaggini occidentali del dell'impero eh islamico quindi anche fino in Spagna. Eh vi ricordo che era un'invenzione codificata in Cina nel 105 avanti dopo Cristo chiedo scusa. Eh allo stesso modo eh gli arabi apprendono dagli schiavi cinesi eh la eh modalità di tessitura della seta che diventerà una produzione anche araba a questo punto e poi gradualmente arriveranno ma con ritardi più lunghi in questo caso altre fondamentali invenzioni cinesi in particolare il timone di poppa di cui vi ho già parlato in una precedente lezione e eh acquisiscono gli arabi anche i segreti della coltivazione dello zucchero in questo caso non si di una tecnologia cinese ma di una tecnologia agraria piuttosto persiana e in Persia era arrivata in precedenza dall'India come sappiamo. E poi anche altri prodotti alimentari orientali arrivano verso occidente proprio in questo contesto. Allora qua vi ho parlato di schiavitù, prigionieri schiavi, gli arabi quindi pur tolleranti verso i popoli conquistati come ho detto prima a proposito dell'Egitto non rinunciavano a fare ricorso alla schiavitù e continueranno a farci ricorso ancora per molto tempo e tutto questo però non deve sorprenderci perché non erano certo le motivazioni umanitarie che spingevano questi uomini ma piuttosto l'esigenza di procurarsi risorse di energia, di energia meccanica evidentemente difficilmente sostituibili quelle prodotte dai muscoli dell'uomo. Quindi rimane ampiamente praticata. I pirati saraceni per secoli fecero scorrerie lungo le coste del Mediterraneo stentrionale catturando e riducendo in schiavitù le popolazioni cristiane. Un fatto clamoroso è quello accaduto all'isola del Giglio nel 1544 quando venne deportata all'intera popolazione dell'isola ma insomma non è che fossero solo gli arabi a praticare la schiavitù. In realtà nel mondo cristiano è rimasta praticata per molto tempo anche se in modo magari contenuto e nonostante i tentativi religiosi di ispirazione religiosa di contrastarla e di abolirla. Ma addirittura sappiamo bene che nel diciottesimo, diciottesimo, nel diciottesimo, nel 1700-1800, la schiavitù è rimasta una risorsa energetica fondamentale all'espansione delle colonie in America, in Nord America, in America Latina dove venivano impiantate piantagioni prima di tutto di copone ma anche di altre piante di tabacco e così via servivano d'opera e veniva trovata ovviamente, veniva offerta, offerta è una parola inadatta, veniva resa dagli schiavi che arrivavano dall'Africa. Addirittura nel momento di massimo intensità di questi traffici infami venivano portati in America dai 60.000 ai 80.000 schiavi all'anno. Quindi dimensioni veramente impressionanti. E in epoca ancora più tarda la schiavitù era ancora praticata in Asia centrale, nei canati che erano gli eredi di quella cultura araba che è centrata in Samarkand, in Bukhara, come dicevo prima. Bene, come mai tutto questo? Beh, il motivo è una ragione tecnica fondamentalmente. Fino a quando non sono disponibili ressorti o semi-meccaniche artificiali, macchine in grado di produrre potenza meccanica ed energia meccanica, il lavoro muscolare rimane una fonte energetica insostituibile per tante economie. Gli americani, gli statunitensi, hanno fatto una guerra, la guerra di successione nel 1860 intorno a questa questione, lo sappiamo bene. Bene, andiamo avanti. Allora, dopo tutte queste campagne di espansione, una volta raggiunto una situazione di assestamento, questa era l'estensione dell'impero islamico. Questo punto abbasside, come vi stavo dicendo, con capitale Baghdad, nell'attuale Iraq, ora terribilmente martoriato, ma a quell'epoca stava avendo uno dei grandi periodi di splendore, anzi il suo ultimo periodo di splendore, forse varrebbe la pena di dire. Vedete, un territorio vastissimo dove c'era un'unica religione ufficiale, un'unica lingua, perché l'arabo veniva adottato da tutte le popolazioni convertite all'islam, quindi con rotte commerciali aperte e disponibili allo sviluppo di una nuova economia. Vi faccio notare i tentativi di invasione a cui ho fatto cenno prima verso la Francia e verso Costantinopoli, falliti, e i tentativi invece di successo verso la Sicilia, che per un certo periodo, per un paio di secoli, è rimasta sotto il controllo arabo, anche più di un paio di secoli. Questo è il palazzo abbasside di Baghdad, è una splendida realizzazione architettonica, come potete vedere. Allora intorno all'830 raggiungono, con le operazioni che ho detto, una massima espansione e si verifica in questo contesto un poderoso sviluppo dei commerci e della navigazione che supporta questi commerci. Commerci comportano acquisizioni di ricchezze, le ricchezze comportano mezzi finanziari per promuovere attività di ogni tipo. I califi di questo periodo di Baghdad sono dei grandi mecenati delle arti e del sapere e in questo contesto promuovono, sostengono, finanziano le arti, le conoscenze, la cultura, la scienza e la tecnologia. E Baghdad in questo modo diventa a tutti gli effetti la nuova Alessandria. Nell'Ottocento circa viene fondata la cosiddetta Casa della Sapienza, Bait al-Iqma, che è un centro di cultura, come era stato il museo di Alessandria prima e come avveniva ad Alessandria a Pergamo, Baghdad si dota anche di una grande biblioteca, la più grande biblioteca dai tempi di Alessandria e di Pergamo. E in questo spirito ovviamente nell'amore per la cultura antica viene promossa e sostenuta da una scuola particolare che ha sede proprio al Al-Iqma, una tradizione di recupero della cultura antica che consiste, si basa sulla traduzione in arabo delle opere scientifiche e filosofiche dei classici greci ed ellenistici. Per fortuna il principio ispiratore era la fedeltà assoluta alla fonte originale e questo ovviamente ha impedito alterazioni dei testi e la conservazione dei messaggi originali in questi contenuti. E quindi in questo modo si assiste ad un poderoso recupero di cultura antica che comprende i grandi testi di cui già vi ho parlato, le opere di Tolomeo, di Aristotele, di Euclide, tanto per fare i nomi più grandi, ma insomma la lista è molto lunga. E poi successivamente lo vedremo, le versioni arabe di questi testi a un certo punto arriveranno in Europa e quindi opere che degli autori antichi che erano andate perdute nel mondo europeo possono essere a quel punto recuperate per questo canale. Quindi sono dei grandi trasportatori, dei grandi veicolatori di cultura antica verso la cultura moderna di arabi, ma non fanno solo questo, sviluppano anche in quell'epoca una cultura originale, raffinatissima, in campo scientifico. Istituiscono le medrasse, la prima è dell'859, a Fezzi in Marocco, vedete l'estensione proprio territoriale, geografica di queste azioni culturali. Che cosa sono le medrasse? Sono delle università ovviamente di impianto religioso dove lo studio del Corano ha un ruolo centrale, ma si studiano anche tutte le altre discipline scientifiche, la medicina, la matematica, l'astronomia. E a parte questo, che c'è un fatto notevole, è il tipo di organizzazione scolastica di queste medrasse che è veramente notevole ed avanzato. Sono gratuite, quindi non riservate alle persone facoltose, ma sono meritocratiche. Ci entrano solo le persone più capaci, i ragazzi più promettenti, più dotati, altamente selettive e, cosa notevole, come potete vedere, alla fine del percorso di studi, rilasciano un titolo di studi, un titolo scientifico, che è di fatto la laurea. Sono gli arabi che inventano quel documento che oggi chiamiamo laurea, che rilasciamo a tutti i nostri studenti che escono con successo dall'università. È un documento che ovviamente autorizza e titola il possessore a praticare, ad esempio, la medicina e così via. A proposito di medicina, proprio lo studio della medicina ha un impulso enorme sotto nel mondo arabo, nel mondo islamico in questo periodo, punto che vengono costituiti ospedali pubblici. Il più importante, ovviamente, si trova a Baghdad, dove operano decine di medici. È il più avanzato, il più grande esistente e dove, cose notevoli anche questa, mi pare sicuramente il caso di notarle, i malati vengono curati gratuitamente e a prescindere dalla razza e dalla religione. Che questi sono principi, come vedete, estremamente avanzati, specialmente rappontati all'epoca in cui la cultura islamica araba li aveva sviluppati. Ma non è solo questo, vengono costituiti anche ospedali psichiatrici, queste sono novità. Librerie pubbliche, i libri costano ancora tantissimo e per accedere ai libri e alla cultura quindi incontra un ostacolo economico. Bene, nelle librerie pubbliche i libri vengono prestati in modo da eliminare questo ostacolo. Poi vengono costruiti osservatori astronomici. Come vedete, è un dilagare di cultura estremamente avanzato. Va anche detto che in questo dilagare della cultura a livello geografico in tutto il territorio si crea un altro grosso polo culturale proprio nel cardine delle rotte della Via della Seta, quella che si chiama Corasmia, Scutiana, quindi le regioni di Samarkanda, di Bukhara, dove confluiscono le rotte cinesi e indiane della Via della Seta. E qui sono poli commerciali di fondamentale importanza, ma come avviene sempre in questi casi, dove circolano le merci, dove circolano i beni, circolano anche le idee, il pensiero, le conoscenze. Quindi sono centri di rigogliosa cultura ed eclettica cultura. Si assiste a uno straordinario sviluppo di scienza e tecnologia, appunto dalla sintesi di conoscenze ellenistiche, quelle che vi ho detto, che vengono dal mondo ellenistico, ma anche che arrivano dall'India, che arrivano dalla Cina. Una sintesi come non era mai successo prima. Quindi ci sono notevoli avanzamenti in medicina, dell'importanza della medicina, all'importanza della medicina ha fatto cenno poco fa. Vengono sviluppate le tecniche di incessatura per immobilizzare le fratture, protocolli igienici, tecniche chirurgiche, vengono inventati nuovi farmaci, viene inventato lago ipodermico, lago da iniezioni che usiamo anche adesso. Sono tutte invenzioni arabe di quest'epoca, come potete vedere. Di fianco alla medicina c'è anche la chimica. La chimica, la parola stessa, è di origine araba. In arabo è alchimia, che poi in traslitterazione quasi letterale viene fuori alchimia, che è l'interpretazione magico-esoterica della chimica, ma viene fuori anche chimica, che è invece l'accezione moderna scientifica di queste discipline. Con una serie molto lunga di scienziati che si dedicano a questi studi, a queste ricerche, tipicamente hanno ovviamente il loro nome arabo, ad esempio Ibn Sina, il terzo che vedete elencato qui, che appunto lavorava a Bukhara e viveva a Bukhara, che noi conosciamo come Avicenna. Cioè, siccome a un certo punto i libri, le opere di questi autori arabi arriveranno nel mondo latino e nel mondo latino il loro nome arabo verrà in qualche modo modificato, traslitterato in caratteri latini e Ibn Sina diventa avicenna, al-razi diventa razes, come vedete, e così via. Ma a prescindere da questi fatti di nomenclatura e di adattamento delle parole arabe, questi signori producono veramente un progresso notevolissimo in ambito chimico. Vengono inventati nuovi procedimenti, la distillazione a secco, la distillazione a vapore, la calcinazione, l'acerazione, la sublimazione, il filtraggio, sono procedimenti che in chimica oggi sono noti, ma che prima non erano conosciuti, non erano codificati. Loro li codificano e li scrivono nei loro libri. Quindi si possono produrre in questo modo sostanze nuove, prima inaccessibili, grazie a questi procedimenti. E per conseguire questi procedimenti serve anche una strumentazione, un'attrezzatura adeguata. Quindi ecco che inventano l'alambicco, per inciso alambicco ancora una volta è un nome latinizzato, la versione latinizzata è di un nome arabo, al-inbic, come vedete, i distillatori, le storte, i termometri. I primi termometri sono stati inventati proprio da questi scienziati arabi e vengono fatte osservazioni scientifiche rigorose, proprio in un'accezione moderna del termine. Vengono prodotti tutta una serie di nuovi composti, qua vedete un elenco di sostanze alcaline, di sostanze acide, in particolare gli acidi minerali per la prima volta, molto più forti di quelle digitali e poi altre sostanze e altri composti che vedete elencati, i vi comprese, notate, la nafta, sono i primi che elaborano il petrolio, le pozze prelemato da petrolio e da affioramenti, ecco la parola giusta, affioramenti, da affioramenti di petrolio riescono a elaborare dei derivati, il catrame, il kerosene, la nafta, come vedete, la stessa acqua e regia. E poi producono sostanze medicinali, il sapone. Il sapone è un'invenzione arabe, acqua purificata e così via. Però a fianco, visto che vi ho parlato prima di chimica e alchimia, a fianco a questi risultati sicuramente qualificabili come progresso scientifico, anche in termini moderni, proseguono un pochino la tradizione di concepire la manipolazione delle sostanze in modo magico, in un contesto, in un senso magico esoterico e continuano a immaginare di potere tramutare i metalli, ad esempio il piombo in oro, utilizzando sostanze più strane, come poi ne ho indicate alcune, e anche continuano a pensare o pensano che possono esistere delle sostanze, per loro si chiamano pietra filosofale, era quello che i cinesi chiamano elisir, che sarebbero in grado, che potrebbero donare l'immortalità. È proprio l'elisir cercato dagli stessi alchimisti cinesi, questa idea che la chimica facendo cose straordinarie possa fare anche i miracoli, è fortemente radicata in diverse culture. Abbiamo già trovato questo concetto. Bene, passiamo ad altri settori, matematica, scienza e anche tecnica, anche questi, qui vediamo dei progressi notevolissimi. Alfazari è un persiano, quindi di nuovo siamo nei territori dell'Asia centrale, si dedica all'astronomia e siccome fare astronomia richiede anche di usare la matematica, nel fare astronomia è il primo che adotta la numerazione decimale posizionale indiana, di cui vi ho parlato poco fa e che era comparsa non tantissimi anni prima, 140 anni prima circa, abbiamo visto. La prima emissione nel mondo islamico, ovviamente ha un'adozione, una scelta di grande successo e il suo esempio viene seguito da tanti altri studiosi. Non fa solo ricerche astrate numeriche, ma ha bisogno di fare osservazioni e quindi sperimentazione e quindi costruisce strumenti nuovi, trasforma il vecchio astrolabio in uno strumento di precisione realizzato in bronzo. Ricordo che era noto fino dal secondo secolo a.C. nel mondo ellenistico romano e diventa quindi uno strumento essenziale in astrologia, in navigazione, in misura del tempo. È uno strumento complesso, è formato da varie parti che vanno composte insieme per ottenere l'indicazione e la misura quantitativa della posizione delle stelle in cielo. Sono poi dotate dei movimenti che vedete lì, le diverse parti. Che cosa si può fare con questo strumento? Beh, se so che ora è della notte e dove sono a Baghdad, sono in grado di individuare qual è la stella che vedo brillare in cielo. Oppure di queste tre variabili ne posso usare a piacere due di indipendenti e una di dipendente, usando un linguaggio matematico. Se so qual è la stella in cielo e so che ora è, posso sapere in che posizione mi trovo ed ecco quindi che uso l'astrolabio per individuare la mia posizione geografica. È uno strumento di navigazione a questo punto. Oppure se so dove sono e so qual è la stella e posso identifico la stella, posso capire che ora è della notte, quindi diventa una specie di orologio notturno. Come vedete è uno strumento estremamente versatile, richiede precisione nell'esecuzione ma può fare veramente tante cose. Come strumento di navigazione gli arabi sono i primi che lo usano, ha un successo poi veramente notevole, per molti secoli è insostituibile nel fare la posizione quando si naviga in mare. Se ci trasferiamo sempre nella zona di Bukhara, in realtà si chiama Kiva, la città dove opera questo signore, troviamo Alquarizmi. Alquarizmi, vedete che l'epoca di fioritura è sempre quella di massimo splendore arabo. Questo è un grandissimo matematico che adotta anche lui la numerazione posizionale araba indiana, manco a dirlo ovviamente, e la elabora in forme più avanzate. Introduce il simbolismo al proposito, al posto delle cifre, quindi indica invece i coefficienti, invece che con i valori numerici, 3 più 5 meno 7, con un simbolo che rappresenta A, è quello che scrive A x al quadrato più B x più C uguale a 0 per indicare un'equazione di secondo grado. Questa è l'algebra moderna e la descrive in un libro che si chiama Algebra, che poi tradotto in italiano, in latino vogliamo prima, ma comunque adesso noi usiamo l'italiano, diventa Algebra, quindi vedete la parola Algebra deriva proprio dall'opera di questo matematico arabo Alquarizmi, ma Alquarizmi ha dato proprio il suo nome, ha dato origine ad algoritmo, procedimento di calcolo complesso, deriva da qui, fa anche altre cose notevoli, risolve sistematicamente le equazioni di secondo grado, nel modo più generale, vi ho dato una traccia un attimo fa, risolve sistemi di equazioni, si occupa di trigonometria, astronomia, astrologia, geografia, come vedete, e siccome nel fare astronomia e geografia ha bisogno di strumenti di misura precisa, è anche un tecnico, un costruttore di strumenti avanzati, astrolabi sofisticati e versioni diverse, quadrante universale, quadrans vetus in latino, strumenti trigonometrici, tavole matematiche e così via. Quindi veramente uno dei grandi della matematica di ogni tempo. Al Battani segue il suo esempio, altro grande matematico astronomo, e poi la lista sarebbe lunga, vi cito Al AITAM perché oltre ad essere un grande matematico, sperimentatore, è la persona che più di tutti dà impulso agli studi di ottica. Mola le lenti e quindi è il primo che utilizza il vetro per ottenere effetti ottici, non le ampolle piene d'acqua come faceva, vi ricordate, si faceva nel mondo romano, ve l'ho ricordato qualche lezione fa, Tolomeo, ma proprio lenti nel senso moderno del termine, fare le prime osservazioni degli effetti ottici e dello studio dell'ottico con strumenti, con concetti geometrici, appunto delle lenti. Studia l'ottica anche in termini più ampi, quindi l'effetto della camera oscura dotata di foro, ecco non pensa di mettere la lente davanti al foro della camera oscura, questo lo penserà qualcun altro più avanti. E comunque lui l'iniziatore dell'ottica moderna, viene considerato tale oggi. Albiruni è un altro notevolissimo scienziato, pensate che arriva a valutare la distanza a terra-luna con un errore che qualche studioso di storia della scienza araba ha detto di essere di 20 chilometri, crediamogli, non andiamo più a contestare questa informazione, e tutto questo in che modo? Di nuovo con strumentazione scientifica sempre più sofisticata. Fine vi cito anche Omar Ayam, notevolissimo matematico anche questo, risolve addirittura equazioni di terzo grado, non in forma generale, in casi molto particolari, però inizia a risolvere queste equazioni così complicate da affrontare e mi piace ricordare anche che oltre che essere un grande scienziato, era anche un poeta, nelle sue paesie cantava i piaceri della vita, come vedete, del vino e della carne. Qua ho riportato letteralmente le edizioni che ho trovato nel testo da cui ho attinto queste informazioni. E mi piace ricordarlo per fare capire quanto fosse aperta a quell'epoca la cultura islamica. Passando ad aspetti di tecnologia più pratica, vale la pena certamente di parlare della metallurgia in epoca abbaside e in particolare dell'acciaio damascato sviluppato intorno all'Ottocento, che è una derivazione dell'acciaio indiano Uzz, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, arrivava nel mondo arabo tramite le rotte carovaniere e i lingotti e i fabbri di Damasco avevano ideato questa lavorazione che portava ad ottenere questo aspetto. Non è un disegno voluto da un punto di vista artistico, ma è un effetto della lavorazione che tradisce la presenza di stratificazioni, come vedete, con contenuti chimici diversi, sono strati con legature diverse con altri elementi. Ne viene fuori un acciaio di prestazioni meccaniche assolutamente eccellenti, in particolare per produrre spade, vi ho proposto a caso la fotografia della lama di un coltello, di un'arma da taglio, e che poi diventeranno noti, temendoli, ai cavalieri crociati quando affronteranno i guerrieri arabi durante le crociate, appunto, in terra santa. I segreti di lavorazione rigorosa non sono noti perché vengono tenuti tali, se i metodi di lavorazione vengono tenuti segreti, e poi a un certo punto questa lavorazione viene dimenticata, scompare a barrio. Il motivo è che a un certo punto sono terminate, l'interpretazione che si dà è questa, vengono, cessano i flussi di minerali così, i lingotti di, scusate, non tanto i minerali, i lingotti di acciaio così sofisticato dall'India, probabilmente perché a quell'epoca si erano estinte in India le miniere da cui venivano estratti quei minerali, e mancando l'apporto dei materiali, della materia prima fondamentale per queste lavorazioni, a un certo punto la tecnica è stata abbandonata e quindi anche dimenticata, visto che non c'erano testi in cui era codificata. Ecco, che cosa sappiamo? Analizzando le spade damascate di allora, si vede bene che oltre a ferro e carbonio ci sono anche percentuali di molibdeno e vanadio e quindi quello che se ne ottiene è con terminologia moderna non un acciaio e basta, ma un acciaio e speciale che appunto ha caratteristiche meccaniche superiori. Noi a fare acciaio speciali in modo deliberato abbiamo imparato nel corso dell'800, del 1800, 200 anni fa. Su questo torneremo poi. Allora, le abilità metallurgiche del mondo islamico arrivano anche in Spagna, nella Spagna islamica e qui viene messa a punto una tecnica di lavorazione del ferro che si chiama forgia catalana, che evidentemente è in Catalonia che prende piede, è di origine ancora una volta ripeto, islamica, quindi viene dai territori orientali, viene perfezionata in Spagna e costituisce il fattore rilevante, è l'utilizzo di mantici molto efficaci che permettono di ventilare efficacemente la fiamma, ossigenarla e quindi permettere alla temperatura di raggiungere temperature di quasi fusione del metallo e ricordiamoci che il ferro in Europa non veniva ancora fuso, cioè rimanavamo a temperature più basse e quindi in questo modo si può ottenerne sia ferrodolce che ghisa che acciaio a secondo di come viene del contenuto di carbonio che viene applicato al materiale, alla materia prima, per semplice battitura in modo sostitutivo alla vecchia tecnica pacchetto di origine celtica che abbiamo visto vecchia di parecchi secoli, che un po' alla volta cade in disuso perché è molto più faticosa e più costosa e lenta nella lavorazione. Gradualmente la forza catalana si diffonde anche nel mondo latino, nell'Europa latina, quindi supera i confini della Spagna amoresca. Altri aspetti notevoli della tecnologia islamica di questa epoca riguardano la ruota idraulica, la ruota idraulica che si diffonde per la macina dei cereali e nel X secolo a Baghdad, è la capitale dell'impero, ma ovviamente dove queste tecnologie non possono mancare, è una città grande e popolosa, ci sono impianti di macinazione basati sulla ruota idraulica che sono in grado di produrre 10 tonnellate di farina al giorno. Dalla dimensione, siamo a livelli produttivi di tipo industriale, un pochino come gli impianti di Barbarelle in Francia di cui vi ho già parlato. Ma ovviamente insieme, una volta che si capisce che la ruota idraulica è una fonte di energia, meccanica, è ovvio che prima o poi si capisce che la si può usare anche per altre lavorazioni ed ecco appunto che gli arabi iniziano a usarla nella molitura delle olive, cioè per produrre l'olio, nella triturazione della canna da zucchero, per produrre lo zucchero, nella follatura dei tessuti, la follatura è quell'operazione che una volta tessuto il tessuto, scusate il bisticcio, quindi incrociate le fibre di trama e ordito, in questa prima operazione restano degli spazi tra le fibre che si incrociano in direzioni ortogonali, se il tessuto viene battuto, si appiattisce e vengono riempiti quegli spazi, per questo si chiama follatura. È un processo importante specialmente per impermeabilizzare i tessuti, quindi vedremo poi che verrà fatta ampiamente nel mondo latino, dove la possibilità di pioggia è più elevata che nel mondo arabo magari, no? Va bene, poi per la pulatura del tessuto, per la macinazione dei minerali, in modo da rendere più facili le operazioni di fusione successiva, la tritatura delle fibre cartacee, quindi la produzione della carta che era arrivata nel mondo arabo, ve l'ho già detto prima, la segatura in falagnameria, la forgiatura in metallurgia e così via. Ovviamente questa differenziazione non riguarda solo, è intuitivo questo direi, solo il tipo di impiego, ma anche le modalità di uso, per cui appaiono tipi di mulini diversi. I mulini da ponte che stanno al centro del flusso d'acqua del fiume per captare il più possibile di energia idraulica, i mulini da barca che essendo piazzati a bordo di una barca mantengono sempre la posizione ottimale rispetto al livello dell'acqua e sono insensibili a condizioni di piena o di secca del fiume. I mulini a marea anche, di cui vi ho già parlato e così via. In generale il controllo delle risorse idriche viene percepito e sviluppato ampiamente nel mondo arabo, con la costruzione anche di dighe, di canali di abduzione, quindi in questo caso, come vedete, siamo in Persia, con la citazione che vi propongo, a fini irrigui e a fini agricoli. E in quest'ottica arrivano a realizzare i tecnici arabi anche le prime turbine ad acqua, dove con turbine ad acqua intendo un mulino le cui pale sono ricurve in modo da captare con la maggiore efficienza possibile l'energia dell'acqua. In altre parole, è la prima civiltà che usa su grande scala l'energia idrica. Sono anche grandi navigatori, interessati ovviamente alla navigazione perché è un mezzo principale, principe per sviluppare i commerci, con imbarcazioni molto evolute, anche a tre alberi, hanno una cartografia evoluta e ci sono poi tutta una serie di altre innovazioni tecnologiche che ovviamente spaziano in settori diversi, dalla stampa a massello con pietra o metallo, quindi non a xilografia come nel mondo cinese, ma a masselli con materiali diversi, ma il principio è lo stesso, il traditore di uso è lo stesso. Nell'undicesimo secolo compare il filatoio a ruota che permette l'operazione di filatura, cioè di produrre il filato da tessitura in modo molto più rapido che con l'antichissimo fuso, ci passeremo ancora sul filatoio a ruota, lo rincontreremo, vi farò vedere anche delle immagini, i ventilatori venivano usati al Cairo in quest'epoca e poi anche una meccanica ludica riservata alle classi aristocratiche, ricche e ambienti, in particolare ai califi, la meccanica più raffinata che potevano produrre allora, utilizzata per creare dei meccanismi che appunto facevano divertire queste persone, un pochino come avveniva, se vi ricordate, ai tempi di Ctesibio, di Erone nel mondo ellenistico. Ok, un polo di cultura notevolissima islamica è proprio la Spagna, la Spagna amoresca. Qui si trovano alcune delle, si manifestano alcuni degli avanzamenti più considerevoli in campo scientifico e anche in campo tecnico. Cito anzitutto Firman, nella versione latina del nome di Ibn Firnas, che era un tecnologo che si interessava a costruire cose diverse, ma che, la cosa più notevole che ha fatto, sono il primo tentativo di volo di cui abbiamo la documentazione, di cui parlano le cronache dell'epoca. Ha tentato dei voli con paracadute e poi anche con un aliante primitivo che però si risolse in un atterraggio rovinoso, se ricordo bene, si ruppe le gambe, qualcosa del genere. Costruttore di orologi ad acqua, di un simulatore meteorologico, anche lui lavora il vetro ottico. Poi Arzachel, matematico, astronomo, anche lui costruttore di strumenti. Forse più importante per noi, Al Muradi, che costruì degli orologi meccanici veri e propri, dotati di ingranaggi epicicloidali, quindi direi eredi in qualche modo della macchina di Antichitera, del meccanismo di Antichitera, di cui abbiamo parlato qualche lezione fa, e poi ancora orologi azionati appesi, con dispositivi di scappamento. Lo scappamento è un meccanismo di regolazione del moto particolare, su cui torno alla fine di questa lezione, come vedrete, e poi ancora il volano, per regolare la regolarità del moto circolare, con Ibn Bassal. Come vedete, è una fioritura di interessi tecnici notevole, ma ci sono anche interessi tecnici di uso civile. Cordoba, che era la principale città islamica in Spagna, era dotata di un sistema di illuminazione pubblica. Non il primo in assoluto, bisogna dire, perché pare, secondo le cronache, che anche Alessandria, l'Alessandria ellenistica, avesse qualcosa del genere. Poi era dotata di un primo sistema di raccolta rifiuti, la nettenza urbana, pare che sia comparsa qui per la prima volta, una grande biblioteca, splendidi edifici. Quello che vedete rappresentato non è a Cordoba, è a Granada, è la famosa Alambra, la dimora dei califi di Granada. Uso di ruote idrauliche per varie finalità, sia idrauliche che a vento, a dire il vero, e così via. E quindi un altro polo di grande cultura, e quindi di grande attrattiva per coloro che la cultura di lì a presto l'avrebbero voluta cercare, la cercavano, come vediamo tra un attimo. E a questo punto saltiamo finalmente nell'Europa latina, l'Europa latina di Carlo Magno, che è diventato il re dei franchi, e come re dei franchi, da nuovo un'espansione del regno franco, sottomettendo altri regni barbarici. In che modo? Anzitutto le interazioni con la tecnologia sono di tipo militare, in questo momento di espansione militare, perché i cavalieri franchi riescono a prevalere la loro supremazia militare, si basa su elementi di tecnologia. La cavalleria è la loro arma vincente, ma la cavalleria funziona così bene perché è dotata di tecnologia innovativa, le staffe e la ferratura. La ferratura dei cavalli permette al cavallo di muoversi facilmente, agevolmente, su terreni di ogni tipo, anche sassosi. Le staffe permettono invece al cavaliere di stare stabile in sella e quindi di avere le mani libere per brandire le armi contro i propri avversari. I franchi sono un regno cristiano che ha abbracciato la fede cattolica del Vescovo di Roma, quindi il cristianesimo latino, e da questa vicinanza religiosa nasce anche un vero sodalizio tra regno carolingio e chiesa cattolica e Vescovo di Roma che ha il momento culminante nella proclamazione di Carlo Magno a imperatore dell'impero romano, nella creazione dell'impero carolingio, come diciamo adesso, poi se l'ha chiamato sacro romano impero, a quell'epoca non c'era questa definizione, che salda l'alleanza tra regno carolingio e papato. Da un lato Carlo Magno ne riceve un sostegno contro i regni barbari minori che avendo un'investitura religiosa così importante, e dall'altro lato il papato riceve il sostegno nei suoi confronti con la chiesa ortodossa di Bisanzio, con cui i rapporti non sono molto distesi. Per inciso, questo fatto ovviamente definisce l'origine religiosa divina del potere reale, quindi è una consacrazione che poi ha un'influenza fondamentale nella concezione del potere e della monarchia in tutta Europa nei secoli successivi, come vedremo. Allora, queste sono implicazioni di tipo politiche, ma che hanno una ripercussione anche di tipo tecnologico. Perché? Perché a questo punto il connubio con la chiesa è saldato e Carlo Magno usa i valori romani custoditi dalla chiesa come supporto alla sua azione di governo e di amministrazione del potere. Viene recuperato il sistema giuridico, che ovviamente era custodito nelle curie vescovili, nelle scuole religiose. viene recuperata la lingua in cui è scritto quel sistema giuridico, quindi il latino è il suo alfabeto, che è la lingua della chiesa, ma che diventa la lingua dell'impero, e viene anche aggiornata, resa più moderna la scrittura latina, con l'invenzione della punteggiatura, della spaziatura tra le parole, che prima non esisteva, veniva scritto tutto di seguito, senza punteggiatura. Allora, il potere e il prestigio dell'impero carolingio, sostenuto dal potere papale, fanno sì che questi elementi di cultura e strumenti di diffusione della cultura, quindi tecnologia di diffusione della cultura, diventino un patrimonio culturale comune europeo, vengono accettati in tutto il mondo europeo. Ovviamente occidentale, centro-occidentale, non in quello orientale, dove invece permane l'impero bizantino, che invece usa, segue ovviamente la sua religione ortodossa, e usa ormai stabilmente da secoli il greco come lingua ufficiale. Quella che era la lingua antica, colta degli antichi romani, viene dimenticata in Europa centro-occidentale. D'altro canto, questa omologazione culturale promossa da Carlo Magno, dalla sua riforma linguistica e letteraria, finisce per essere un fondamento per la diffusione della cultura franca, ma sarebbe meglio dire tedesca, perché i franchi sono una popolazione tedesca, ricordiammelo, il capoluogo in cui Carlo Magno pone la sua corte è Aquisgrana, Aquisgrana è Aachen, e Aachen sta in Germania adesso, quindi sono a cavallo tra Francia e Germania, dobbiamo intenderli come francesi. E sì, stavo dicendo, è il presupposto della diffusione della cultura tedesca, ma anche dei processi di osmosi culturale basati su questa cultura che avvengono nei secoli successivi tra le diverse popolazioni che si riconoscono in questo messaggio culturale. Il regno carolingio ha vita effimera e viene superato verso il Novecento dall'espansione dei vichinghi, partendo dalla penisola scandinava, dilagano in Europa centrale e poi anche meridionale, nelle isole britanniche pure, a partire dal 793, prima con scorrerie, incursioni e razzie, e poi con insediamenti stabili. Il 911 arrivano in Francia, si segnano in Normandia, dove vengono chiamati Normanni, il nome che adottano in un'epoca successiva, e poi arrivano anche in Italia meridionale, arrivano in Sicilia, cacciano gli arabi, e questi sono i Normanni di Sicilia, ma sono in origine la stessa popolazione, e poi arrivano anche nelle isole britanniche, nel 1066, si insaideno stabilmente con le conquiste di Guglielmo, il conquistatore, che pure è un Normanno. Quindi vedete che c'è cultura normanna che va dall'Europa settentrionale all'Europa meridionale, ed è un nuovo fattore di omogenizzazione, di amalgamazione all'interno dei territori europei. Anche in questo caso bisogna riconoscere nel successo militare vichingo elementi di tecnologia, anzitutto per quanto riguarda le armi, possedevano armi in ferro ed acciaio eccellenti, vi ho già raccontato che la penisola scandinava era un territorio elettivo per la fusione del ferro, sia per gli eccellenti minerali che c'erano lì, sia per la grande abbondanza di risorse boschive per alimentare i forni, e quindi spade, ma anche le maglie di cotta diventano un po' un emblema del guerriero vichingo e normanno. Quelle maglie fatte in annellini di ferro o di acciaio in annellati insieme, incatenati insieme, che proteggono il combattente e il guerriero dai fendenti del nemico, che poi ritroviamo anche in epoche successive, all'epoca delle crociate e così via. E poi anche tecnologie come queste, gli strumenti, i veicoli con cui si muovevano sui mari e sui fiumi, le lunghe navi, e una versione particolare si chiama Dracar, che erano navi veramente pensate in modo eccellente per la navigazione in alto mare, in mare aperto, ma anche per la navigazione fluviale, perché avevano un pescaggio molto limitato, potevano navigare in acque alte solo un metro, molto robuste, quindi in grado di tenere anche mari difficili. E con queste navi avevano sviluppato all'inizio le loro incursioni attaccando villaggi e città fluviali in nord Europa, da saccheggiare ovviamente, e poi successivamente per fare navigazioni più ampie, arrivare fino al Mediterraneo e così via. Ma non solo, ma queste sono le rotte di espansione iniziale, come vedete, faccio notare, non solo nel Mar del Nord, verso le isole britanniche, l'Islanda e poi Francia, e giù lungo la costa, entrando nel Mediterraneo e così via, ma anche verso la Russia. La Russia, hanno colonizzato anche la Russia, è una parte della popolazione russa attuale, è di origine effettivamente, è scandinava e vichinga. Anzi, la parola Russia viene proprio dalla parola che usavano gli slavi per indicare i rematori vichinghi che a forza di braccia risalivano i loro fiumi in questa zona. Va beh, insediamento di questi vichinghi diventati normanni e coltivatori di una nuova cultura, anche raffinata, anche se loro non perdono mai la vocazione militare, un segno tra tutti di quali attenzioni avevano per l'arte e la cultura, credo che possa essere costituito senza dubbio dalla Cappella Palatina, che potete visitare a Palermo se vi capita di andare da quella parte, che è proprio un'opera di epoca normale. Bene, altre navigazioni ancora più impressionanti dei vichinghi dell'epoca riguardano la colonizzazione, l'arrivo in Nord America e l'insediamento di colonia in Groenlandia e anche a Terra Nova, quindi in Canada, sempre grazie alle capacità di navigazione, di tenere il mare e delle loro imbarcazioni, ma anche alla capacità di orientarsi guardando il sole, riconoscendo la posizione delle stelle e così via. Altri navigatori formidabili che completano imprese eccezionali nella stessa epoca sono i polinesiani, di cui vi ho già parlato, come cultura lapita, avevano iniziato le loro espansioni in Polinesia, se vi ricordate, intorno al 1600 a.C. e poi gradualmente, sempre con imprese formidabili, raggiungono isole e atolli sempre più remoti. Nel 1000 arrivano a Tonga, a Samoa, nel 100 a.C. a Tahiti e nel 1000 d.C., quindi appunto all'epoca di cui stiamo parlando per i normanni, raggiungono addirittura Rapanui, che è l'isola che noi conosciamo come isola di Pasqua e che è l'isola forse, anzi in assoluto, più isolata di tutto l'Oceano Pacifico. Quindi di nuovo capacità, lo ribadisco, capacità di navigazione impressionale, con imbarcazioni che possono sembrare rudimentali e in realtà evidentemente estremamente efficaci per realizzare questo tipo di imprese. Qua vedete una a doppio scafo con un catamarano e questa invece a scafo unico con bilanciere. O per inciso dell'isola di Pasqua, avremo modo di tornare a parlare più avanti. Facciamo un saltino anche in Africa, vale la pena di farlo, perché in questa epoca fiorisce intorno all'Ottocento d.C. il Regno di Ghana, lo vedete collocato qui, è uno dei tanti regni, forse il più significativo tra tutti i diversi regni africani, che poggia il suo successo, il suo sviluppo su una capacità di sviluppare un'agricoltura molto avanzata, ma anche su notevole conoscenze metallurgiche nella lavorazione del ferro, ancora una volta ovviamente materiale strategico per la produzione di armi, per armare un esercito e così via, ma anche e specialmente vale la pena notarlo, per la lavorazione dell'oro. Ovviamente ambito per tutt'altri motivi, inutile dire quali sono, ma che attirerà qua a un certo punto i navigatori europei che usciti dallo stretto di Gibilterra andranno proprio alla ricerca dei metalli preziosi lungo le coste dell'Africa settentrionale. Quindi una popolazione con forti vocazioni, anche mercantili evidentemente. Sempre nello stesso periodo, facciamo un salto in tutt'altra parte del mondo, arriviamo nel sud-est asiatico in Cambogia e in quest'epoca, inizio del VIII secolo, dell'Ottocento d.C., fiorisce il regno Khmer, regno Khmer che poi si protrae fino al XIII secolo e crolla intorno al 1430. Lo splendore, periodo di splendore fino al XIII secolo. Il maggiore regno del sud-est asiatico è una civiltà avanzata che ha un'agricoltura estremamente sofisticata con un controllo notevole delle risorse idriche che sono notevoli in quella parte dell'Asia, sviluppano reti di canali artificiali per l'irrigazione estremamente complessi ma anche per i trasporti e anche imponenti edifici in pietra, alti fino a 65 metri. Questo è il complesso monumentale di Angkor Wat, la testimonianza più notevole di quell'antica civiltà. La cosa importante qui da notare, che vale la pena notare, è che questo edificio così imponente, così pesante anche, è appoggiato su terreni paludosi, quindi molto suscettibili di sprofondamento. Allora, potete capire che per realizzare con successo queste costruzioni hanno dovuto realizzare degli interventi di consolidamento raffinatissimi dei terreni su cui poi avrebbero dovuto edificare a testimonianza delle abilità tecnologiche di cui disponerano. Questa è una cultura che a un certo punto cessa, crolla, lo dicevano nel 1430 d.C., per una serie di motivi sicuramente bellici, ma anche per crisi economico-alimentari che sono indotte anche dall'eccessivo sfruttamento delle risorse agrarie e della deforestazione. Quindi quello che vi sto raccontando qui ricorda abbastanza, direi, quello che vi ho detto a proposito della crisi della civiltà greca del III secolo a.C. e non solo, anche di altre crisi analoge. Torniamo ai Maya, di cui vi ho già parlato poche slide fa, a proposito della numerazione ventesimale. intorno al 970 la civiltà Maya raggiunge l'apogeo, siamo in America centrale, bisogna parlare anche dei toltechi, che sono un'altra civiltà parallela. Ricordo che si tratta in questo caso di civiltà di tipo neolitico, con sistemi di agricoltura molto avanzati, con irrigazione, che praticano un'astronomia molto sofisticata, ve ne ho già parlato, che sono in grado di edificare edifici monumentali come questo, simili agli zigurat mesopotamici, montagne artificiali con in cima il tempio, e che dopo di che, dopo di che entra in una fase di declino e alla fine crolla, quali sono le cause? Visto che abbiamo parlato dei Khmer poco fa, vale la pena dire questo, sicuramente si è identificato un periodo di lunga siccità, ma anche sono state proposte altre cause collaterali, lo sfruttamento delle risorse agrarie eccessivo, le epidemie collegate a sovrappopolazione, e quindi vedete cause abbastanza simili a quelle indicate per gli altri crolli di civiltà a cui abbiamo fatto accendere. Se ci spostiamo in America Meridionale, nella stessa epoca, lungo le coste del Perù, vediamo che qui si afferma la civiltà Cimu, è un'ennesima civiltà fondamentalmente legata all'agricoltura intensiva, anche questa con sistemi di irrigazione, in grado di produrre una ceramica raffinata, ma senza l'uso della ruota da vasaio, come indica anche questa immagine, la ruota nell'America Meridionale non era nota, era nota marginalmente, ma non a fini produttivi in America centrale, successivamente all'epoca di cui vi sto parlando adesso, ma senza che venisse usata sia dai vasai che nella realizzazione di carri, quindi nella locomozione. La ruota tecnica non è mai stata usata in America. Quindi stavo dicendo, sono in grado di fare queste cose, ma anche sono fini lavoratori dei metalli, lavorano in rame e in metalli preziosi, sono in grado di produrre un bronzo all'arsenico, quindi vedete che è una società, questa, già entrata nell'età dei metalli. Usano questi metalli a fini rituali e domestici e a secondo del colore utilizzano i metalli con significati anche gerarchici e rituali e sono in grado, proprio per questa attenzione che hanno alla colorazione che assumono i metalli, di produrre dei veri rivestimenti metallici, quindi rivestire un metallo poco prezioso con un metallo più prezioso, più lucente come oro e argento. Riescono a fare questo con un procedimento che comprende sia lo scioglimento in liquidi di oro e argento con la presenza di sali, nitrati e altre sostanze, tali da produrre effetti elettrochimici che comportano la deposizione delle particelle di oro e argento sul supporto. In altre parole, si tratta di una specie a tutti gli effetti di elettroplacatura e poi producono anche strumentazione più ordinaria, attrezzatura più ordinaria come questa faccia, questi oggetti qui come vedete. Quindi erano già passati in America Meridionale, e stavano passando, avevano iniziato a passare all'età dei metalli, intorno al 970 d.C. In Cina, più o meno nella stessa epoca, assistiamo a un periodo di nuova fioritura, di notevolissima fioritura, con l'invenzione di meccanismi nuovi, in particolare lo scappamento. L'avevo accennato prima, adesso ve lo descrivo meglio. è un meccanismo che applicando un movimento oscillatorio ad un moto rotatorio continuo permette di rallentare il moto rotatorio continuo, ma al tempo stesso di regolarizzare il moto stesso, quindi di mantenere molto costante la velocità angolare di rotazione. In altre parole, regola la potenza applicata al moto rotatorio. E' uno strumento che potete chiedervi, ma che cosa serve tutto questo? Serve dove si va alla ricerca di precisione e non di potenza evidentemente, e capirete tra un attimo qual è un campo fondamentale di impiego. Viene inventata anche la porcellana. Porcellana è una ceramica molto particolare, molto raffinata, molto superiore alla porcellana, alla ceramica convenzionale, che si ottiene dall'utilizzo di materie prime particolari, caolino e fespato, che devono essere dosate in modo opportuno, ben amalgamate, per poi passare a essiccazione, pittura, cottura, per ottenere prodotti raffinatissimi, come il piatto che vedete rappresentato qui, che, essendo un segreto industriale cinese, chiamiamolo così, e diventa sui mercati internazionali un prodotto molto ambito, quindi come le sete cinesi, contribuisce molto alla bilancia dei pagamenti, al successo della bilancia dei pagamenti cinese alla vendita, al flusso di denari dall'estero, vendendo questi prodotti. Lo rimane per molto tempo. Vedremo che un prodotto simile in Europa viene sviluppato soltanto mille anni dopo. Ancora una volta, come vedete, i cinesi testimoniano un'attitudine verso l'ingegneria dei materiali, la tecnologia dei materiali, veramente notevole. E sempre in questo spirito, materiali e sostanze, nell'850 arrivano a descrivere la prima polvere da sparo. In un libro di alchimisti tautisti, ancora allora, come vedete, che parla di formule troppo pericolose per essere usate come lisir, l'ho virgolettato perché questa è la traduzione in italiano, e non dà la vita eterna, non fornisce l'immortalità, però essendo infiammabile può essere usato a fini celebrativi, spettacolari, ad esempio per fare fuochi artificiali. Questo è il primo uso della prima polvere da sparo. Però dopo alcuni decenni, ecco che arriva il primo uso bellico come sostanza incendiaria lanciata con catapulte, e poi dopo ancora qualche decina d'anni, qualche poco più di un secolo, vengono perfezionate le composizioni, ed ecco quindi che può essere usato come sostanza esplosiva di granate, di nuovo lanciate con catapulte. Questa che vedete qui è la più antica rappresentazione che documenta l'uso di un'arma da fuoco. E questo signore qua, questo in realtà è un demone, che ha in mano un'arma da fuoco portatile, qua vedete la fiammata che esce. Altra invenzione notevole riguarda l'uso della carta dei cinesi in questa epoca. L'ho parlato già di carta e di stampa axilografica. Ebbene, nel 868, usando questa tecnica, viene prodotto il primo libro a stampa cinese, quindi con produzione automatica delle stampe, non con scrittura amanuense, come capite. Il primo passo in realtà apre la porta ad una produzione esplosiva a una crescita vertiginosa di libri stampati che comportano una diffusione, una fioritura culturale senza precedenti in Cina. Anche in Europa a un certo punto succederà questo, ma bisognerà aspettare ancora qualche secolo, ma lo vedremo a suo tempo. La grande fioritura culturale della fine del primo millennio cinese si basa sulla capacità, sull'avere trovato una tecnica per produrre rapidamente tante copie di libri. Un altro uso che si fa della stampa axilografica è nella carta moneta, introdotta nel 960. Vi sto dicendo che è un periodo, vi ho già detto che questo è un periodo di grande fioritura economica, ma lo sviluppo dei commerci, ho fatto cenno alla porcellana, alla seta poco fa, al flusso finanziario, eccetera, comporta anche un fabbisogno di denaro, cioè bisogna averlo per scambiarlo il denaro. E quindi, siccome la zecca con le forniture di oro e di argento di cui dispone non riesce a fare fronte alla domanda, viene inventata questa tecnica, un pezzo di carta in cui c'è scritto chiunque presenti questo pezzo di carta avrà in cambio sulla parola dell'imperatore un certo numero di monete. Allora, questo alla fine, questo pezzo di carta, per questa affermazione dell'imperatore, vale quanto la moneta, e quindi è effettivamente carta moneta. L'invenzione ancora una volta è cinese, arriverà a secoli dopo in Italia, in Europa, beh in Italia in effetti all'inizio, e però farà fatica ad essere accettata, perché è sempre possibile agli europei che un pezzo di carta possa valere quanto loro. Altra invenzione pure notevolissima, è il campo dell'ingegneria idraulica, è la conca di navigazione, l'animazione vi fa vedere come funziona, permette di raccordare due canali che hanno livelli diversi dell'acqua e tramite due paratoie, una e due, eccole qui, che si aprono a tempi differenti, permettendo nel frattempo l'adeguamento del livello dell'acqua, permettono all'imbarcazione di procedere da sinistra a destra, ma anche in senso inverso volendo, strada solo di gestire opportunamente le operazioni di apertura, chiusura e riempimento e in questo modo permette la navigazione molto più facile, molto più agevolata in tratti di canale che altrimenti presenterebbero rapide e navigazione difficile. Quindi ha un'importanza notevolissima nello sviluppo della navigazione fluviale. Vi ho detto prima quanto importante è. Nel 1041 i cinesi arrivano addirittura a ideare la stampa a caratteri mobili in ceramica, non quindi a massello di un'intera pagina, ma in cui i singoli caratteri vengono combinati per comporre la pagina che sia il testo che si vuole realizzare. Il realizzatore Bin Shen, conosciamo anche i nomi di chi ha fatto queste cose, come vedete, in realtà non è un grosso successo, sia perché i caratteri in ceramica sono piuttosto fragili, tendono a rovinarsi nell'uso, nella manipolazione, sia perché le norme mole di caratteri ideogrammatici, sono alcune migliaia, circa 3.000 come sapete, fanno sì che sia piuttosto disagevole il loro uso, la loro combinazione, la loro conservazione. E' comunque notevole considerare che la stampa a caratteri mobili è un'invenzione anzitutto cinese e sarà fatta, rispetuta successivamente in Europa, ma solo qualche secolo dopo. Anche in Cina arriva il filatoio a ruota che è più o meno parallelamente a quello nel mondo arabo di cui vi parlavo prima a proposito dell'Islam. Ancora altre innovazioni, la bussola viene perfezionata in quest'epoca, a cavallo del fine del primo millennio, come vedete, subito dopo, e vengono codificate anche le modalità per produrla con ferro magnetizzato a caldo e quindi tale da mantenere la magnetizzazione, senza avere bisogno di essere rimagnetizzato a intervalli di tempo, periodicamente. Quella che vedete rappresentata lì è proprio un'antica bussola cinese. Viene codificato l'uso in navigazione e il suo accoppiamento con la cartografia e quindi hanno uno strumento di navigazione a questo punto i cinesi molto avanzato. si diffonde in Cina il mulino a vento nella stessa epoca, ma attenzione perché è estratta in realtà di uno strumento che non è un'invenzione cinese. Abbiamo visto che era comparsa secoli prima in Persia. ecco, questa è una realizzazione sicuramente notevole di tecnologia cinese. Anche qui conosciamo l'autore, un signore che si chiamava Su Song, era uno statista e ambasciatore, ma anche uno scienziato, scienziato nel senso moderno del termine, un cartografo e un ingegnere. Come ingegnere realizza questo grande orologio meccanico. Vi ho raccontato prima che più o meno nella stessa epoca nella Spagna islamica venivano già costruiti degli orologi meccanici. Beh, questo è un orologio di dimensioni monumentali, perché collocato su una torre da dieci metri, come vedete, segna non solo le ore del giorno, ma anche il movimento delle stelle con tutta una serie di meccanismi interni e addirittura anche è dotato di una serie di figurini, di statuette che rappresentano delle figure umane che si muovono a intervalli regolari, allo scoccare delle ore e cose del genere. Si aprono le porte, loro escono, rientrano, eccetera. Tutto il motore è mosso da una ruota idraulica, la vedete benissimo qui, e per trasmettere il moto fa uso della catena di trasmissione, che era già stata pensata da filone, ricordate ve ne ho parlato, e utilizza per regolarizzare il moto, quindi per dare precisione all'avanzamento degli indicatori, proprio lo scappamento di cui parlavo prima. È appunto nel campo dell'orologeria che il meccanismo chiamato scappamento avrà un'applicazione fondamentale, non solo nel mondo arabo, ve ne ho parlato prima appunto, non solo nel mondo cinese, ve ne sto parlando adesso, ma vedremo anche nel mondo occidentale, quando sarà ora, un po' qualche secolo dopo, un paio di secoli dopo. Eccolo lì il meccanismo della trasmissione a catena, in realtà non, lo ripeto, una novità cinese. Su Song si occupa anche di tante altre cose, scrive dei trattati di zoologia, di farmacologia, di botanica, è uno scienziato universale, quelli che con una parola in inglese vengono chiamato polimat, polimatici, non so se si può dire, forse è un neologismo, polimatematici, non esiste una traduzione. Allora, vedete che mettendo insieme tutte queste informazioni che vi ho dato, dobbiamo concludere che la Cina, ma anche il mondo arabo, è la nazione di gran lunga più progredita al mondo in questo momento, dove fioriscono tutta una serie di invenzioni pratiche formidabili, con fantastici sviluppi futuri, però bisogna dire che la ricerca scientifica strata non è così sofisticata come nel mondo arabo e continuamente bisogna dire che pur essendoci tutti i presupposti perché si possa passare a un sviluppo di tipo industriale o perlomeno proto-industriale, questo passaggio in Cina non avviene. È un fattore, un fatto che è stato studiato da molti studiosi della tecnologia e vengono date varie cause. Una è la cosiddetta trappola tecnologica che consisterebbe nel fatto che le condizioni di vita erano così elevate, il benessere così diffuso che mancava gli stimoli a fare di meglio e quindi a introdurre dei progressi tecnologici sostanziali nella direzione dell'industrializzazione. Detto questo, passiamo a altre cose, torniamo in Europa. Nel 1054 si realizza lo scisma d'Oriente, i contrasti tra chiesa romana e chiesa di Costantinopoli si radicano al punto tale che le due chiese vanno ognuna per la loro strada e quindi si realizza anche una separazione culturale tra il mondo latino che appunto parla e scrive in latino e il mondo bizantino che parla e scrive invece in greco. Nel mondo latino fioriscono sempre di più in quest'epoca i monasteri a cui ho già fatto cenno prima che sono, ve lo ripeto, un riferimento culturale fondamentale i veri depositari delle tradizioni culturali ma che sono in una condizione certamente arretrata rispetto ai loro analoghi del mondo bizantino. Tuttavia sono gli unici centri di cultura e anche di indipendenza di pensiero se vogliamo perché rispondono direttamente al Papa di solito, normalmente e quindi non ai vescovi feudatari che altrimenti esercire e sarebbero un potere un pesante potere locale. La mappatura che vedete qui indica con i pallini verdi i monasteri cistercensi e con i pallini rossi i monasteri cluniacensi dai monasteri padre da cui sono partite le regole con cui si organizzano la loro vita e il loro agire i diversi monasteri e la diffusione che si hanno vi fa capire quale sia la presenza culturale che essi comportano nei territori appunto dell'Europa di tutta l'Europa latina in questa epoca. La situazione è tale per cui proprio qui matura il primo risveglio culturale i primi scienziati i filosofi naturali come venivano chiamati allora europei non possono che agire all'interno di questi contesti e quindi oppure delle scuole vescovili delle curie dove pure si coltivano i testi religiosi e non solo religiosi e quindi bisogna dire che per secoli la Chiesa è la custode dei libri e delle conoscenze e di fatto se qualcuno vuole dedicarsi allo studio dei libri a sviluppare il sapere non può che entrare in queste istituzioni e quindi seguire la vita religiosa e quindi bisogna anche concludere che in un'ottica laica pur in un'ottica laica bisogna affermare che lo sviluppo della cultura europea ha certamente radici cristiane da questo fermento nasce l'interesse ad assorbire le conoscenze arabe che si sanno essere molto più avanzate ed ecco che alcuni di questi religiosi cominciano a viaggiare nel mondo arabo per accedere ai luoghi di cultura araba dove sono conservati gli antichi libri nelle traduzioni arabe di cui vi parlavo prima ecco quindi che in particolare nella Spagna amoresca e nella Sicilia saracena sono i territori arabi più facilmente accessibili avvengono viaggi di questi studiosi che possono accedere ai libri scritti in arabo e produrne delle traduzioni in latino è strata di libri anticamente originariamente greci altre volte musulmani e così ha luogo un flusso di cultura greco ellenistica latina romana e islamica verso l'Europa latina è un processo che dura alcuni secoli che vede impegnati alcuni elementi più brillanti del mondo cristiano a partire da Gerberta dorillac che poi diventerà papa come silvestro secondo che si reca in spagna alla fine del decimo secolo quindi poco prima dell'anno mille poi come vedete arriva anche un inglese robert de chester poi anche gerardo da cremona quindi siamo in questo caso un italiano evidentemente che proseguono quest'opera di assorbimento di cultura antica mediata attraverso la cultura araba un esempio della tentativi di emulazione di sviluppi arabi è costituito da un monaco inglese un monaco medettino inglese Elmer of Malmersbury che esegue un tentativo di volo con ali postice simile a quello di Ibn Furnas di cui vi ho parlato prima e ovviamente l'esito è analogo a quello del suo predecessore arabo a terra in modo rovinoso si rompe le gambe le gambe rimane zotto diffusione della ruota idraulica diffusione della ruota idraulica è ormai un fatto sempre più importante in Europa anche in Europa per una serie di operazioni diversificate non solo la macina dei cereali quindi in particolare in Italia come vedete anche se ci sono delle testimonianze della sua comparsa anche nel nord della Francia in un monastero in monasteri anzi più di uno della Picardia per produrre la birra vaccinare il malto per essere più precisi ma specialmente in Italia che c'è questa affioritura di questo tipo di macchine nella pestatura dei coloranti tessili siamo intorno all'anno 1000 poi nella follatura dei tessuti sul serchio in Toscana sappiamo dove per la macina e la follatura di nuovo dei tessuti a Milano per i frantoi delle olive poi per l'azionamento di nori e così via insomma si capisce anche in Europa che nel mondo latino che il fabbisogno di energia meccanica può essere soddisfatto ricorrendo alla forza di un agente inanimato dell'acqua corrente nei fiumi e questo processo prosegue negli anni successivi con una serie di sfruttamenti sempre più articolato lavorazione del ferro macina del malto falagnameria lavorazioni delle pelli molature di coltelli come vedete e così via con la diversificazione anche del tipo di ruote anche qui qui vedete rappresentate le ruote su barca di cui prima ho parlato a proposito del mondo arabo nella lavorazione in metallurgia ad esempio nell'azionamento di questi magli tramite ruote dotate di camma in modo da semplificare il lavoro del fabbro di fucinatura di forgiatura anzi meglio chiedo scusa e qua vedete come funziona il meccanismo questa è la ruota idraulica queste sono le camme le camme sono queste sporgenze qui che battendo sulla estremità del maglio lo costringono ad alzarsi e poi per peso proprio ricade favorendo appunto il fabbro nella lavorazione nella forgiatura dei metalli una lavorazione che risponde all'esigenza sempre più elevata di produrre manufatti in ferro e anche l'area di diffusione della ruota si allarga sempre di più per cui la si trova in territori sempre più lontani vedete in Scandinavia Polonia Islanda in Russia man mano che passa il tempo e questo comporta anche l'esigenza di un'attenzione sempre maggiore alle risorse idriche presso le quali ovviamente vanno collocate le ruote idrauliche non solo bisogna dire a fini produttivi quindi ad azionamento di ruote idrauliche ma anche a controllo a fini rigui e a fini di navigazione fluviale che comincia a diffondersi anche in Europa e quindi a questo fine vengono inventati nuovi dispositivi come la saracinesca idraulica qua ne vedete un'immagine una fotografia odierna ma riproduce esattamente il modo in cui venivano realizzate già allora le saracinesche per controllare i flussi d'acqua lungo i fiumi che possiamo trovare in tante nostre città anche oggi testimonianze appunto di quell'epoca passata così antica bene e con questo abbiamo finito la lezione odierna vi lascio e vi do appuntamento alla prossima volta grazie dell'attenzione